L'FBI è la principale agenzia degli Stati Uniti d'America per il rispetto della legge. Signora, possedersi al mio posto. La nostra missione è garantire zero fallimenti. Il che significa che non ci aspettiamo niente di meno della perfezione. Signori, FBI, dovete scendere immediatamente dal treno! Ora, per favore, alzatevi per prestare giuramento. Benvenuto alla Casa Bianca, Peter. Ma hai sentito parlare della Night Action? È un programma investigativo top secret all'interno dell'FBI. Quindi vuole che diventi un Night Agent? Certo che no. Voglio che tu risponda al telefono per loro. Squilla raramente. Sì, parli pure. Sono in pericolo! C'è qualcuno! Che cosa faccio? Andrà tutto bene. La polizia è in arrivo. Abbiamo appena perso due agenti federali. Sospettiamo che sia coinvolto qualcuno alla Casa Bianca. Cercano me ora, è così? Via! La mia missione è proteggerti a costo della vita. Più cose sai, più sei esposto al pericolo. Non immagini in cosa ti stai cacciando. Ho trovato qualcosa. Questo non è un attacco terroristico. È un omicidio a tutti gli effetti. Come sappiamo che lei non è coinvolta? Sei davvero dalla mia parte o no? Andiamo! Non ti ho ancora detto tutto. Se sbagliamo un dettaglio... Peter! ...di questo piano... ...è finita. Prendi il volante! ... Grazie a tutti